Dentro o fuori, per continuare a sperare, Lecce deve vincere il derby di domani contro il Foggia via nel mare. Complici anche gli ultimi risultati della squadra giallorossa, la prevendita è andata a fiacca. Quattro giornate dalla conclusione della stagione regolare, la formazione leccese avrebbe meritato ben altro seguito. Ma la squadra di Bollini ha fatto poco o nulla per meritarsi questo. Basti pensare all'ultima sconfitta contro il Melfi, la quarta esterna consecutiva della gestione Bollini, per capire che questa squadra non è riuscita a svoltare neppure con il nuovo tecnico, alternando buone partite in casa e deludenti prestazioni lontano dal Via del Mare. Contro il Foggia, Lecce e Albivio, o vince e continua a sperare, oppure addio sogni di Serie B sia pure attraverso i play-off. Molto dipenderà pure dai risultati delle concorrenti in corsa per i play-off, ma il Lecce dovrebbe vincere le ultime quattro partite, a prescindere. Il tecnico Bollini dovrà rinunciare ancora al suo bomber, Principe Davide Moscardelli. Quella dell'attaccante è un'assenza pesantissima. L'allenatore giallorosso sta pensando a Fabrizio Miccoli per la sostituzione. Bisognerà vedere però come Bollini disporrà la squadra antifoggia. L'assenza dell'altro squadificato, Vineto, dovrebbe indurre Bollini ad abbandonare l'idea del 3-5-2, ma nel reparto difensivo potrebbe dirottare Sacillotto, mossa che sarebbe possibile anche perché il brasiliano ha già giocato sulla linea arretrata. Inoltre, nella sua presenza a centrocampo, non sembra più di chiara. Il capitano potrebbe agire alle spalle di Gustavo e Dumbia, frecce rapide per mettere scompiglio nella difesa foggiana. A centrocampo, Papini è inamovibile nel suo ruolo di regista. Ai suoi fianchi, Salvi e uno tra Herrera e Bogliasino. Se sarà ancora 3-5-2 il rientrante, Mannini e Lopez, saranno gli esterni di centrocampo e di difesa in fase di copertura. Il foggia di De Zerbi si presenterà a Lecce senza gli squalificati Gigliotti e Sarno, che con una doppietta all'andata stese Lecce, ma con i recuperati in Mazza, Potenza e Iemmello. Quest'ultimo capocannoniere della formazione rossonera con 14 gol senza calci di rigore. Arbitrerà la partita a Serra della sezione di Torino, fischio d'inizio alle 16.